la mia trappola è il teatro come riflesso dell'umanità bisogna fare il teatro nell'entroterra del proprio io questo è il mio consiglio gridare forte la propria voce dal basso da uno scantinato da un vicolo buio farlo con tutta la forza di cui si è capaci questa è madante un'attrice di teatro e questo è quello che vorrei fare insieme a voi durante il laboratorio teatrale gridare forte o farlo in silenzio decidere come farlo come esprimersi questo è il bello del teatro il teatro è un gioco il teatro ci permette di essere altro da noi ci permette di essere un personaggio attraverso il quale senza vergogna ci si potrà raccontare e potremo farlo nel modo in cui ci piace di più io vi do appuntamento quindi il 9 ottobre dalle 16 alla cittadella dei giovani per il festival delle ragazze ciao